Alberto Signorini, lunedì 11 settembre, è tornato in onda con la nuova edizione del Grande Fratello. Ospite a Verissimo, fa il mea culpa per l'ultima edizione del GF VIP. Ora si torna all'essenza del reality. Il 59enne chiarisce, sarà solo Grande Fratello, non più Grande Fratello VIP. Ritorniamo alle origini. Non solo nel nome, ma anche nel format. Abbiamo voluto dare un ritorno alla normalità. Punto di forza del programma sono proprio le persone comuni, che hanno delle storie bellissime da raccontare. Ognuno di loro arriva da una realtà diversa. Sono tutte persone che lavorano, che non smaniano per avere una carriera televisiva. Sull'edizione passata Alfonso dice, le critiche erano fondate. Bisogna avere l'onestà di riconoscere che l'anno scorso abbiamo sbagliato il cast. Si è dato troppo spago alla volgarità, non solo espressiva ma anche negli atteggiamenti. Tutto questo è stata colpa non solo di chi l'ha portata sugli schermi, ma anche di noi che l'abbiamo promossa. Ciao!